Investimenti, aste e difesa del debitori esecutato. Tutto questo sul mio canale. Mi chiamo Nicola Compagnone e dal 2007 mi occupo di aste immobiliari. Ti raccomando, in descrizione troverai anche i link del mio blog, del mio podcast, dei miei articoli sul quotidiano Il Mattino, sulla rivista Forbes. Troverai tutto e soprattutto ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanellina così rimarrai aggiornato su tutti i miei nuovi video. Ciao, a presto! Ciao, a presto!